Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che serve per introdurvi una nuova rubrica, tra virgolette, che sarà molto simile a quella di un anno in Australia, ma in un altro paese e con un'altra durata. Quindi avrò bisogno di voi per trovarle un titolo. Ho qualche idea per la testa, però voglio sentire anche qualche vostro parere. Magari avete delle idee migliori delle mie. Io nel momento in cui state guardando questo video, in realtà mi trovo già in Germania, più precisamente vicino a Stoccarda. Ancora non vi svelo il nome del paesino vicino a Stoccarda dove sarò, perché vorrei che voi metteste un bel like, anche che vi iscriveste al canale, in modo tale da non perdervi i prossimi video in cui appunto vedrete anche dove sto. Sono in Germania per lavoro e più precisamente per fare la famosa stagione in gelateria. Quindi in questo momento io non so esattamente che cosa troverò lassù, perché per me è un'esperienza completamente nuova. Quindi non so se avrò il tempo materiale per registrare e per montare i video e non so se avrò anche una connessione tale che vi possa da permettermi di caricare questi video su YouTube. In ogni caso mi sono tra virgolette presa in anticipo, perché in questi giorni sto registrando al punto alcuni video extra, diciamo così, quindi vedrete ancora questo sfondo nel corso dei prossimi mesi, appunto per poterli eventualmente caricare se dovesse andare qualcosa a storto durante una settimana. E per l'appunto per cercare di mantenere una certa continuità sul canale e per quanto possibile farvi avere sempre un video a settimana. Quindi ricapitolando, se avete un suggerimento per il nome della rubrica lasciate un commento qui sotto e sempre nei commenti qui sotto se ne avete lasciatemi delle domande possibilmente relative al mio primo periodo in Germania, quindi quello che sta accadendo nella prima settimana, due, eccetera. Io spero che questo video annuncio vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, se volete seguirmi appunto in questa mia nuovissima avventura, condividete questo video per farmi conoscere i vostri amici, magari c'è qualcuno che vorrebbe trasferirsi in Germania per la stagione o comunque sia per un lasso di tempo piuttosto prolungato, quindi potrebbe trovarlo interessante. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui potete seguire la mia avventura in tempo reale. Noi ci vediamo già la prossima settimana sicuramente con un nuovo video, have a nice life!